No, mi avete visto voi? No, qualcuno ha visto Marvin Ok, allora rimanete lì Allora guardiamoci alle spalle, secondo me ce lo siamo lasciati anche dietro Andiamo a guardare un po' attorno Ok, Marca Twin di treggio nel muretto alle nostre spalle, io e Lux Copriamo, Lux sulla sinistra, io verso destra, villaggio, rapidi Marca e Aldir Scusa, ancora qui indietro, il muretto alle spalle guardando il villaggio Non quello che costeggia la strada Aldir, segui Marca, Aldir, segui Marca No, io l'ho ordinato a Marca, ma si intende il battito Ok, andiamo, Lux di corsa Ok Ok Così lui ci riperde No, mi ha detto che ci vede Ah, non si partisce le 2-0 Mi s'ingaggio In posizione Oh, mi ha detto che c'è Puff, non ti capisco Puff, 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 puff post in posizione post in posizione post in posizione post in posizione 3 Rally up 6 Regro Musica 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 Mota gestione Dietro verso la collina con le case Dietro salito In posizione in posizione in posizione mi sono verso la casa in posizione in posizione in posizione direzione e contatto qualcuno conosce la direzione del contatto? io l'ho perso da un del pod 3, return to formation 6, return to formation ho contatto al dozero Lo vedo a 0,90 Ok disingaggio Scomparso Verso la casa a 2 piani Disingaggio Ci fermiamo qua In posizione In posizione No 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 hai un spazio ok in posizione ok al diretti dito avvi è finito avvi è finito continua a coprire il bici avanziamo marchi avanziamo non un si nu si si in via 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 6 7 6 9 9 8 9 9 1 2 six one waiting Oh, eh, ha fatto la panetta, un po' il 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 po' Oh, cance, torno indietro, Luigi, tornate indietro Vieni, 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 vieni Ho finito i colpi, Martina Oh, senti 3, 4, 1, me!